Musica Padula, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, in visita al comune presso il liceo scientifico, strategie aria interna, l'ex consigliere della comunità montana Graziano Voca analizza le polemiche sui fondi del progetto, Rocca d'Aspide, nuova indagine su appalto ai lavori della scuola, rinvio a giudizio per il sindaco, Asl di Salerno, definito il fabbisogno di medici e infermieri, mancano circa 500 sanitari, Grotta Briganti e Calcio, 11 novembre, con Peralardara, si chiudono gli eventi 2018. Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Uno News. Questa mattina presso il comune di Padula e successivamente presso il liceo scientifico Carlo Pisacane, sempre a Padula, la visita speciale del prefetto di Salerno, Francesco Russo. Una visita che ha portato appunto il prefetto, oltre ad incontrare il primo cittadino Paolo Imparato e il capitano dei carabinieri Davide Acquaviva, anche diverse associazioni locali e poi gli studenti. Vediamo. Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, a poche settimane di distanza torna a Padula rispondendo all'invito del sindaco Paolo Imparato, che in occasione della cerimonia di consegna dei premi per la legalità nel nome di Gioe Petrosino, aveva invitato il prefetto a tornare per visitare la Certosa e conosce le attività che il comune propone in tema di legalità. Il prefetto Russo, accettando l'invito, aveva però anche chiesto di conoscere i rappresentanti delle associazioni per poter esprimere loro il suo saluto e il suo ringraziamento per il lavoro che svolgono al servizio delle comunità. Una visita che va a confermare la vicinanza del prefetto al Vallo di Diano dopo diversi incontri svoltisi sul tema della sicurezza. Oggi sono qui. È un comune che ho amato dal primo momento. Ci sono venuto quasi subito per un'occasione, l'occasione del premio dedicato a Gioe Petrosino. Io in relazione anche a quel primo momento di conoscenza proprio a Padula ho immaginato di fare una serie di comitati per l'ordine della sicurezza pubblica dedicati prima di tutto ai comuni più piccoli, perché abbiamo cominciato dal sud della provincia. Noi abbiamo già fatto pure il comitato, l'abbiamo scelto come territorio quello delle compagnie carabinieri e stiamo facendoci un quadro generale e chiaro anche approntando evidentemente delle soluzioni quanto più efficaci e possibili nel confronto continuo con i sindaci. In più la visita ai comuni serve a capire bene e meglio proprio tutte le realtà dei vari posti. Questo è un comune che ha molto vivo il senso della storia e anche questo è una nota di merito per i cittadini di questo territorio. Quindi vi dico ai ragazzi di mantenere e di portare sempre con sé nella vita questi principi importanti che stanno sia attraverso l'insegnamento scolastico ma anche attraverso queste attività collaterali di cui sono protagonisti. E' un segnale importante che diamo, un segnale che diamo ai ragazzi, un segnale che diamo al territorio, un segnale che diamo alle istituzioni. Quindi sono particolarmente contento perché anche il prefetto Pantaloni, il prefetto Malfi è venuto e quindi continuiamo in questa tradizione. avere la presenza del signor prefetto qua a Padula è anche per dare un segnale, un segnale forte di legalità e per questo che ci troviamo al liceo scientifico, che noi abbiamo un progetto con la prefettura, il comune di Padula e il liceo scientifico sulla legalità. Sicuramente quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare e cercare di fare meglio. Questo sicuramente lo faremo. Dopo la visita al comune, il prefetto, sempre su indicazione del sindaco, si è recato presso il liceo scientifico Carlo Pisacane, dove ha avuto modo di salutare i ragazzi e ribadire l'importanza del progetto che li vede protagonisti, prevenzione della corruzione. illustrato brevemente dal referente Francesco Cardiello e che i ragazzi, come sottolineato dalla vicepreside Carmela Pessolano, seguono con attenzione da ormai tre anni. Questa scuola si prefigge insomma come mission principale di questo istituto, la legalità, l'anticorruzione. Abbiamo con la prefettura un protocollo di intesa già da tre anni ormai, con libera, per cui partecipiamo insieme alla prefettura, insieme a tutti questi enti che si occupano di legalità, per trasmettere a questi ragazzi, insomma, che saranno i dirigenti di domani, insomma, le buone pratiche dell'anticorruzione, ripeto, della legalità e di tutto ciò che ci può portare forse a un futuro migliore. Torniamo a parlare della questione legata alla strategia dalle aree interne, data dopo l'ultimo Consiglio Generale della Comunità Montana e le parole del Sindaco di Sanza Vittorio Esposito, che definiva i 17 milioni di euro pochi per pensare di risolvere i problemi del Vallo di Diano. Per l'ex consigliere comunale di Polla, Graziano Voche, consigliere della Comunità Montana, c'è chi sta cercando il pelo nell'uovo per minimizzare l'operare svolto dal Presidente Accetta. La strategia delle aree interne fa discutere. Lo scorso 11 settembre, l'assessore al turismo Corrado Matera annunciava che su proposta congiunta con il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, la Giunta regionale aveva approvato il documento strategico per lo sviluppo dell'area Vallo di Diano, programmando per la realizzazione degli obiettivi un importo di 17 milioni e 703 mila euro. Ora il Sindaco di Sanza Vittorio Esposito chiede chiarezza verso i cittadini in quanto si sta dando troppa enfasi al progetto di strategie aree interne nonostante siano insufficienti i fondi programmati per riuscire effettivamente a ridurre lo spopolamento e ottenere l'agognato sviluppo. Raffaele Accetta condivideva il pensiero sulla scarsità delle risorse ma sottolineava come si tratta comunque di un primo passo importantissimo. La polemica sulla ridotta capacità di intervento che i fondi programmati possono garantire vede ora un nuovo intervento con l'ex consigliere della comunità montana Graziano Vocca che esalta il lavoro svolto dal Presidente Accetta riuscito con tenacia e determinazione a unire le varie voci del territorio creando un progetto che ha ricevuto il plauso del Ministero. Aree interne e aree di discordia esordisce nel suo intervento Vocca. C'è chi lavora per il futuro del comprensorio e c'è chi trova il pelo nell'uovo per minimizzare il lavoro svolto dal Presidente Accetta e dall'Aggiunta della comunità montana con il progetto di strategia delle aree interne. Appartengono allo stesso partito evidenzia l'ex consigliere ma sembra che ognuno tiri l'acqua al suo mulino o chissà, ipotizza ancora Graziano Vocca qualcuno forse si sta preparando per fare lo sgambetto ad Accetta e alla sua giunta? Insomma, per l'ex consigliere Graziano Vocca la polemica sulla scarsità dei fondi avrebbe altri fini che potrebbero avere ben poco a che fare in realtà con lo sviluppo del territorio. In ogni caso, che il progetto di strategia aree interne da solo non poteva risolvere tutti i problemi del Vallo di Diano era cosa risaputa dato che in più occasioni come ad esempio per la presentazione dei progetti turistici promossi dall'assessore Matera e con i fondi destinati al GAL Vallo di Diano è stato più volte sottolineato come la sinergia tra i vari progetti sia fondamentale per ottenere i primi risultati che lanciano verso lo sviluppo economico e sociale il Vallo di Diano E ieri consiglio dei delegati al Consorzio di Bonifica che ha convalidato le nomine regionali e provinciali ora il consiglio è completo per poter procedere all'elezione del nuovo presidente per questo motivo Giuseppe Fornino che ha ricoperto l'incarico in attesa dell'arrivo delle nomine ha rassegnato le sue dimissioni con una lunga lettera In seguito alla convalida delle nomine regionali e provinciali deliberate in conformità alle pertinenti disposizioni statutarie durante l'odierna rinone del Consiglio dei delegati ragioni di correttezza istituzionale mi impongono di rassegnare le immediate dimissioni dalla carica di presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano Tanagro esordisce così Giuseppe Fornino nella sua lunga lettera in cui presenta le sue dimissioni dalla carica di presidente il Consiglio può ormai considerarsi completo a seguito anche della convalida delle nomine provinciali e regionali con uno solo dei membri indicati dalla provincia per il quale i componenti della lista Fornino non si sono astenuti in attesa che il Consiglio fosse completo per poter scegliere il presidente Giuseppe Fornino ha guidato l'ente in questo lungo periodo di transizione di due anni ora lascia doverosamente il suo incarico per consentire la regolare elezione del nuovo presidente e lo fa con una lunga lettera in cui Fornino parla del suo operato spiegando come la gestione dell'ente sia stata caratterizzata dall'adozione con voto unanime di quasi tutte le delibere nell'attento rispetto dei tempi procedimentali e delle esigenze dei consorziati oltre ad una complessiva gestione sana e prudente non mancano i ringraziamenti rivolte ai consiglieri per la fattiva collaborazione e pensa anche al futuro suscita interesse scrive Giuseppe Fornino la scelta che pare e vede il legislatore regionale prossimo ad adottare in merito al funzionamento dei consorsi di bonifica Campani se da un lato andrebbe salutata con favore spiega la volontà di attribuire in seno agli organi impolitici di tali enti un maggiore se non esclusivo peso decisionale e soli consiglieri eletti conferendo maggiore centralità agli interessi dei consorziati quali contribuenti e diretti destinatari dell'azione amministrativa abbattendo i rischi di interferenze politiche dall'altro sottolinea Fornino d'esta perplessità si è confermata la scelta di includere il nostro consorzio tra i soggetti a fusione con enti consortili limitrofi con il rischio di penalizzare tutte le amministrazioni finora virtuose premiando ingiustamente quelle gravate da debiti di bilancio frutto di gestioni poco accorte improntate a sciatteria o peggio ancora a dissolutezza la cronaca ieri udienza presso il reparto detenuti dell'ospedale San Carlo di Potenza con il GIP Trivelli che non ha convalidato l'arresto di Gimino Chirichella e la 48enne di Sala Consilina accusato di omicidio pluriaggravato della compagna la 32enne Violetta Senchio avvenuta sabato scorso per il GIP non c'è pericolo di fuga e reiterazione del reato tuttavia il stesso giudice per l'intagini preliminari ha accolto la richiesta del PM di custodia cautelare e carceraria con il 48enne che resta detenuto presso il reparto detenuti appunto dell'ospedale San Carlo in cui si trova ricoverato e piantonato nuovi guai giudiziari e cambiamo argomento per l'ex sindaco di Roccadaspide Girolamo Auricchio che rischia un altro rinvio a giudizio insieme ad altri quattro indagati nell'ambito dell'indagine sui lavori della scuola in località Serra vediamo nuova richiesta di rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Roccadaspide Girolamo Auricchio attuale vice primo cittadino il PM Silvio Marco Guarriello della procura della Repubblica di Salerno infatti ha chiesto il processo per cinque indagati accusati a vario titolo in concorso di abuso d'ufficio falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale frode nelle pubbliche forniture omissione di referto si tratta del costruttore Romano Nuvoli titolare della ditta appaltatrice Luigi Bellissimo ex assessore lavori pubblici Manuel Bellissimo figlio dell'ex assessore titolare dell'impresa sub appaltatrice e del dirigente del terzo settore lavori pubblici Tommaso Maria Giuliani nel solo caso di Auricchio il reato contestato è quello di diffamazione a mezzo internet e social network di un sotto ufficiale dei carabinieri lo stesso per il quale l'ex sindaco ha già ricevuto una citazione diretta a giudizio per diffamazione dal PM Roberto Penna l'11 maggio scorso a seguito delle ingiurie promulgate a carico della parte offesa durante un comizio elettorale al ristorante La Vigna nel 2016 al centro del procedimento penale l'appalto inerente agli interventi straordinari finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio o vulnerabilità degli elementi presso l'edificio scolastico in località Serra di Roccadaspide oggetto della contestazione la presunta concessione di un subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità competente ed avvenuta in mancanza di attestazioni e requisiti di legge da parte della ditta subappaltatrice nonché il presunto mancato completamento di tutte le opere previste dall'appalto e dal contratto stipulato in particolare quelle di sistemazione esterna relative alle aree di pertinenza dell'edificio scolastico violazioni al codice degli appalti dunque mentre ad Auricchio viene imputato di aver offeso il prestigio l'onore il decoro e la reputazione del sotto ufficiale dei carabinieri che redisse l'informativa che ha fatto scattare le indagini ovvero il comandante della stazione dell'arma di Roccadaspide maresciallo Tommasino Iovino nello specifico Auricchio inviò anche una nota al procuratore capo ai comandanti provinciali e di compagnia dell'arma e a un sito web dove mise fortemente in dubbio le capacità professionali del sotto ufficiale insinuando che fosse fin anche mosso da finalità occulte che lo rendevano imparziale nelle indagini il GIP Affonso Scermino del Tribunale di Salerno ha fissato per l'8 gennaio 2019 l'udienza preliminare per decidere se disporre o meno il processo per gli indagati che potranno presentare prove o memoria propria discolpa e nel caso essere prosciolti da ogni accusa con l'archiviazione delle rispettive posizioni finisce alla sbarra una gang di 5 usurai tra cui tre valdianesi una coppia di imprenditori di campagna si legge sull'edizione odierna del mattino trovandosi in serie difficoltà economiche si era rivolta a loro dopo avergli concesso quanto richiesto pretendevano la restituzione della somma con interessi da capogiro per rendere più convincenti le loro minacce non esitarono a spendere il nome del clan maiale costringendo i coniugi alla cessione di un ramo di azienda di famiglia con l'accusa di usura e di estorsione aggravata dal metodo mafioso riscono davanti al giudice Vincenzo Petrizio di Padula e il figlio Francesco Antonio Garofalo di Sala Consilina che risponde solo di usura Antonio Bosco e Vito Maglio entrambi di campagna dopo la richiesta di invio a giudizio avanzata dai PM Senatore e Rotondo titolari del fascicolo l'appuntamento è per il prossimo 26 novembre quando davanti al GUP Pietro Indimeo si aprirà l'udienza preliminare andiamo avanti è stato pubblicato dalla Regione Campania l'elenco dei comuni ammessi a ricevere un contributo finalizzato a realizzare studi di microzonazione si tratta di un'indagine utile a mappare il territorio e capire i punti sensibili quindi necessari a pianificare interventi in modo adeguato dalla Regione Campania arriva l'elenco dei comuni ammessi a finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico sono 17 comuni della provincia di Salerno che riceveranno un contributo per avviare studi di microzonazione importanti per mappare i punti sensibili del territorio in caso di terremoto Tortorella e Casaletto Spartano insieme si vedono riconosciuti 25.500 euro Campania e Giffoni Vallepiana 20.250 euro ciascuno 17.250 euro vanno sia a Sapri che a Bracigliano mentre Vibonati Santa Marina Siciliano degli Alburni Serra e Sant'Arsenio ricevono singolarmente 14.250 euro così come singolarmente Ispani Morigerati Petina Roscigno San Pietro Altanagro e Sant'Angelo a Fasanella si vedono riconosciuti un contributo di 11.250 euro con tali risorse una volta approvate in via definitiva si potranno avviare studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi della condizione limite per l'emergenza si andrà quindi a valutare la pericolosità sismica locale stando a quanto affermano gli esperti in presenza di un terremoto i crolli sono legati sì alla qualità delle costruzioni ma un ruolo importante è giocato dai cosiddetti effetti risito ovvero effetti geologici condizionati dalla morfologia locale conoscere tali effetti è fondamentale per poter mitigare l'azione sismica da cui l'importanza della microzonazione altro non è che un'indagine per individuare le zone stabili le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica locale e le zone soggette a instabilità dunque uno strumento utile per progettare e pianificare in modo adeguato cambiamo argomento la sanità l'asl di salerno ha definito il fabbisogno di medici e infermieri scatta dunque il piano di reclutamento di circa 500 sanitari l'atto di definizione messo a punto dall'azienda riscuote il plauso dei sindacati che però ritengono sottostimati i dati vediamo all'asl di salerno scatta il piano di reclutamento di circa 500 sanitari l'azienda definisce il fabbisogno di medici e infermieri i sindacati ritengono l'atto di definizione positivo ma i dati sottostimati secondo l'asl ci sarebbe un voto inorganico di 338 medici 97 tra infermieri e altri operatori sanitari a cui vanno aggiunti 42 dirigenti sanitari ciò emerge dallo schema triennale di fabbisogno del personale licenziato dall'asl che complessivamente vede una carenza di 477 dipendenti nel ruolo sanitario 209 in quello tecnico 149 in quello amministrativo e 11 nel ruolo professionale per un totale di 846 persone la definizione del fabbisogno all'asl è sicuramente un atto positivo spiega Pietro Antonacchio segretario generale della CISL Salerno si attiva nell'immediato la contrattazione per le possibilità di concorso e altre forme di reclutamento così come apre una vasta gamma di valorizzazioni professionali nel tempo riteniamo che il decreto vada ridiscusso ma questo va fatto su altri livelli e deve partire dalla regione credo che i numeri siano sottostimati rispetto al concreto fabbisogno assistenziale sul territorio chiederemo a breve con CGL e Will un incontro per definire quali siano le figure e tentare di avviare conclude Antonacchio le procedure di reclutamento così come per concludere il processo di stabilizzazione iniziato in Campania due anni fa ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News e partiamo da un'importante stipula di un protocollo d'intesa che coinvolge l'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellane e il Museo Civico e il Centro Interuniversitario per la Conoscenza Custodia e Valorizzazione dei Beni Materiali e Immateriali quali le lingue dialettali vediamo un importante protocollo d'intesa è stato sottoscritto lo scorso 31 ottobre tra il Comune di Montesano sulla Marcellana Museo Civico e il Centro Interuniversitario di Ricerca in Dialettologia costituito dall'Università della Basilicata e dalle Università di Palermo Pisa Cambridge e Oxford presso la sede all'interno dell'Università della Basilicata alla stipula del protocollo era presente la professoressa Patrizia Del Puente direttore del centro il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi e il direttore del museo il professore Giuseppe Aromando finalità dell'accordo è perseguire la conoscenza la custodia e la valorizzazione dei beni materiali e immateriali il valodidiano e il cilento oltre che per la conformazione geomorfologica del territorio ha condiviso in passato e oggi con la Lucania la maggior parte delle parlate accuendo ancora di più la non coincidenza tra confini geografici e linguistici le lingue dialettali di gran lunga parlate fino all'ottanta del ventesimo secolo oggi per l'italianismo rischiano di essere del tutto obliate di qui la necessità di uno studio esaustivo anche attraverso la compilazione di un atlante linguistico del valodidiano per quanto riguarda la conoscenza il recupero e la valorizzazione nonché trasmissione di uno dei beni materiali più importanti qual è quello linguistico dialettale gli intenti di operatività ricerca e orientamento ha spiegato la professoressa del puente trovano in questo protocollo una loro via preferenziale privilegiata affinché si possa lavorare per la salvaguardia delle lingue infatti le parti collaboreranno per il recupero dei dialetti attraverso una serie di possibilità che vedono le due istituzioni collaborare sul territorio del valodidiano con questo protocollo a concluso si instaura un rapporto privilegiato per tutto quanto riguarda il recupero lo studio e la creazione dell'atlante linguistico del valodidiano attraverso la codifica di un alfabeto per scrivere i dialetti lucani oltre a tante altre importanti e concrete iniziative spostiamoci a Monte San Giacomo dove il prossimo 11 novembre si tratta l'ultimo appuntamento degli eventi estivi 2018 di Grotta Briganti e Cacio escursioni racconti e seminari tutto intorno alla pera Lardara domenica 11 novembre l'ultimo imperdibile appuntamento con gli eventi 2018 di Grotta Briganti e Cacio l'associazione presenterà la pera Lardara la giornata sarà dedicata al frutto autoctono autunnale che come pochi altri caratterizza la tradizione gastronomica San Giacomise la pera giallo oro che a maturazione avvenuta si presenta di color marrone scuro è un frutto che cresce spontaneo e le condizioni pedoclimatiche rendono i terreni montani di Monte San Giacomo l'unico habitat in cui l'albero porta a maturazione i propri frutti tradizione vuole che nel periodo settembre-ottobre si raccolgano manualmente vanno poi distesi su spianate tenute in soffitta quando risultano morbidi al tatto vengono riposti in contenitori ricolmi d'acqua ed è possibile conservarli così per lunghi periodi la giornata di domenica sarà declinata tra escursione alla ricerca dei peri selvatici accompagnati dalle storie dei coltivatori del cervati poi presso la casa del peraino un seminario sulla conservazione e gli aspetti botanici della pera lardara a cura dell'Università Federico II di Napoli consentirà di capirne le caratteristiche peculiari all'evento prenderà parte Patrizia Spigno responsabile regionale dei presidi Slow Food Campania Basilicata con la quale si parlerà dell'importanza del recupero storico culturale produttivo delle tradizioni gastronomiche locali infine il momento della degustazione durante il quale sarà possibile sperimentare tutti i possibili accostamenti culinari a cui la pera lardara si presta grazie alla sua versatilità e alla fantasia dello chef Luciano Petrizzo tutto tutto come di consueto si svolgerà in località Vallicelli a Monte San Giacomo andiamo andiamo ora nel Regno Unito e a Londra dove ha fatto il suo ingresso al World Travel Market il brand Costa Pestum e quale migliore occasione poteva esserci se non quella del WTM di Londra per annunciare al mondo è il caso di dire d'accordo tra due forti esponenti turistici da un lato l'Alicos quale compagnia di navigazione e quindi la compagnia che effettivamente traghetterà i turisti e non solo nei bellissimi scenari della costiera cilentana certo è una scommessa sul turismo sul nuovo modo di vedere il turismo un turismo che punta all'ecosostenibilità un turismo che punta sulle vie del mare le vie del mare per deconcentrare il traffico cittadino e per far vivere al meglio l'esperienza turistica a chi decide di recarsi nei territori campani la fermata di Agropoli è quella che in certo qual modo sancisce l'accordo sancisce un accordo imprenditoriale e dunque era il caso che Agropoli diventasse la fermata di Costa Pestum ma perché perché Agropoli è sintesi di storia di cultura di viaggio e noi siamo viaggio e cultura bisogna salutare con favore l'iniziativa di Costa Pestum tra l'altro Costa Pestum si inserisce a pieno titolo tra quelle iniziative o per meglio dire tra quegli enti quelle strutture che devono necessariamente promuovere una parte del territorio che fino ad ora non ha avuto quell'attenzione che merita perché di fatto il comune di Capaccio i templi di Pestum sono la porta di ingresso del Cilento e il Cilento è una di quelle straordinarie realtà campane a cui bisogna prestare la massima attenzione negli anni a venire e la vostra iniziativa è quella di Costa Pestum si inserisce e va in questa direzione ora lo sport è stata presentata domenica scorsa la formazione di volley femminile prossima al campionato di prima divisione la Rosciano distribuzioni una cerimonia per la formazione salese che disputerà proprio nel Vallo di Diano le sue gare casalinghe vediamo domenica pomeriggio alle 17 presso la sede della Rosciano distribuzioni situata nella zona industriale di Sala Consilina è stata presentata stampa e pubblico la prima squadra di pallavolo femminile pronta a scendere in campo nel campionato di prima divisione l'Antares Rosciano distribuzioni tanti i sostenitori presenti che hanno incitato le ragazze a dare il meglio nel corso della stagione ormai alle porte presente la dirigenza con in testa il presidente Virginio Petrarca che nel suo intervento ha tenuto a ringraziare tutti non nascondendo un pizzico di emozione per il sostegno dato e che nel corso della stagione verrà concesso alla squadra e a tutta la società poi è stato presentato lo staff tecnico guidato dal coach Spicolo Cataldo lo staff dirigenziale e tutte le atlete nel corso della presentazione inoltre c'è stato un particolare dono alla società fatto dal gruppo Fratres locale guidato dal presidente Benedetto Mazzariello che ha regalato un defibrillatore semi-automatico con la speranza che non debba essere mai utilizzato al termine della presentazione un ricco buffet che ha concluso la serata l'Antares Rosciano Distribuzioni giocherà le sue gare interne a Sala Consiline e anche quest'anno il progetto sportivo punta alla valorizzazione delle giovani atlete un percorso giusto e sostenibile che negli anni si spera possa portare il volley femminile salese ai fasti di un tempo non troppo lontano e con lo sport si conclude l'edizione poveridiana delle Uno News io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata Grazie a tutti